25 luglio 2023 e per il giorno fuori dal tempo mi sono avvicinata ad un luogo molto speciale dove il tempo sembra sospeso e dove sembra essere retto dalle mani del Redentore. Sì, siamo Cristo Redentore, Amara Dea, e questo è un luogo senza tempo. Oggi è un giorno particolarmente speciale anche perché è un giorno portale, il terzo portale, l'ultimo portale, 777, di cui abbiamo parlato abbondantemente. E in questo luogo si sente l'assenza del tempo, il qui e ora, e la necessità di ritornare all'essenza e al perdono. Proprio così, incamminandoci verso il Cristo su questa salita, oltre a chiedere grazie e intercessioni per tutti voi, sono qui per un processo alchemico di perdono. E' proprio così, ed è molto importante nel giorno fuori dal tempo, rimanendo nel qui e ora, fare questa piccola pratica che consiglio a tutti voi, che io ho anticipato nel mio seminario di sabato a Roma, che è perdonare tutti i nostri antenati per sistemare l'albero genealogico, perché in questo giorno tutto ciò che è rimasto in sospeso va sistemato. Proprio perché il giorno fuori dal tempo, indicato dai Maya, poiché in allineamento con la stella Sirio, si apre un portale galattico interdimensionale incredibile, in cui energia celeste scende sulla Terra e in cui il tempo sembra sospeso, in cui veniamo riportati al qui ed ora. Si chiude un ciclo per entrare in un nuovo ciclo, in un nuovo anello solare, dobbiamo mettere a posto tutto ciò che abbiamo in sospeso. E oggi è il giorno giusto per celebrare il perdono con una pratica molto semplice. Vedete le mani del Cristo Redentore? Nella mano destra e nella mano sinistra, che rappresenta l'uno è il maschile e l'altro è il femminile, metterete tutti i vostri avi, metterete tutti i vostri antenati. Nella mano destra metterete tutti gli antenati maschili, di genealogia maschile, e nella mano sinistra il femminile e perdonerete, dicendo semplicemente io ti perdono se conoscete il nome, altrimenti in generale io perdono tutto l'albero genealogico, i miei avi e i miei antenati femminili e maschili. E poi congiungete le mani nel petto e in quel modo il perdono sarà completo. Dopodiché un'altra cerimonia nel giorno senza tempo è quella dell'acqua, che anch'io ho anticipato con il mio seminario a Roma, con il gruppo che era presente, in cui l'acqua diventa una vera e propria cerimonia alchemica. L'acqua solarizzata dal sole, fecondata dal sole, viene onorata, ringraziata, ringraziata, innalzata con un gesto sacro, con una cerimonia sacra e poi bevuta. Fatelo anche voi oggi, perché prendendo anche un semplice bicchiere d'acqua e ringraziandola potrete alchimizzare la vostra acqua nel vostro corpo e in quel modo divenire un sacro graal, perché noi siamo il graal. Allora, innanzitutto, nonostante i turisti qui presenti, in questo posto c'è pace e io sono venuta qui e porterò ognuno di voi, chiunque vida questo video, nel giorno senza tempo. Questo giorno è sospeso, questo giorno è un regalo dell'universo. Da domani inizia un nuovo ciclo e non di meno si apre il cancello dei leoni che avrà il suo massimo culmine di apertura proprio l'8 di agosto, l'8-8 e ci porterà un'energia nuova, un'energia felina, l'energia dei leoni e delle leonesse di Sirio. Ma questo ve lo spiegherò al momento più appropriato, proprio per celebrare insieme il leone della tribù di Giuda, il leone e le leonesse di Sirio. Ma oggi voglio restare sospesa, in questo giorno senza tempo, insieme a voi per andare incontro, idealmente voi fatelo con me, al Cristo Redentore che a braccia aperte ci accoglie. Vedete questo cammino? Fatelo insieme a me. che sia un cammino iniziatico, che sia un cammino verso il perdono e l'amore assoluto del Cristo Redentore. E come vedete approvano dai cieli con il suono delle campane. Il perdono ci è stato concesso e noi lo concediamo perché nella misura in cui perdoniamo verremo perdonati. Questo giorno è un giorno molto speciale per sistemare le cose. fatelo e fatelo oggi, non rimandate, mi raccomando, perché non c'è più tempo. E questo ce lo fa sentire, questo spazio sospeso, anche il giorno fuori dal tempo. Ma soprattutto oggi tutto è amplificato, quindi viene fuori tutto il vecchio, le nostre emozioni, le nostre ferite, le nostre cicatrici, le nostre paure. Forse pianto o forse riso, forse paura, forse angoscia o forse speranze. Tutte le nostre emozioni vengono amplificate nel giorno senza tempo. E qual è il segreto? Viverle e lasciarle fluire. Non bloccatele, ma trasmutatele ed entrate nell'energia del Cristo Redentore. E con questo vi saluto, in questo spazio sospeso, in questo tempo sospeso, vi benedico, anzi, vi benedice Lui, il Cristo Redentore. Chiedete e vi sarà dato, oggi più che mai, oggi più che mai potente. E così sia, e così è. Amen.